Ciao a tutti, sono Neon, ho deciso di fare questo video in cui si vede benissimo questa piramide, notate, che adesso andrò a esplorare anche per fare una breve puntata in modo da indicare il ricomincio delle mie puntate, vabbè, per indicare il fatto che comincerò a fare video, scusate se a volte mi inceppo ma capita. Allora, dove ho trovato questa piramide? L'ho trovato in una custom map, non mia, era nel castello di Ice, però, quanto ne so, sicuramente non ci sarà nel castello, cioè, è attorno al castello, ma comunque questa cosa qua mi è apparsa totalmente casuale, un tempo avevo una casa qua, stavo camminando tranquillamente, ho avuto sentito un rumore assurdo di sealerbrin, mi giro e vedo questa enorme struttura gigantormica, e dico, cavolo, che è successo? Beh, allora ho deciso di fare il video per voi. Per cominciare, so, mh, aragnatele, fanculo aragnatele, mh, lava, lava è una specie di altare, cose, vabbè, oh, cartelli, meglio leggerli, occhio le lava, ho un viaggiatore che giungi da lontano, non ero lontano, qua c'era la mia casa, vabbè, se vuoi imparare i segreti del, mh, de, beh, qua sarà del, e, mh, scritta a cancellare, prima che lasco a capire tutto, del, e, vabbè, sali sulla roccia, ah, ok, dovrebbe essere quella, sì, quella roccia centrale, ok, di notte, e notte, e il tesoro, tesoro, non vedo nessun tesoro, vabbè, cominciare a salire sulla roccia centrale, oh, eccolo qua il tesoro, beh, sì, bella notte, allora, cosa devo fare però col tesoro, mh, eh, rompi il tesoro, prendi il tesoro, mangia il tesoro, beh, nel dubbio, proviamo a usare, clicca il tesoro, proviamo, vai, ma, ma che è successo, ma, portale di merda, dove cazzo mi ha portato, vabbè, mi ha portato su un'isoletta, oh, una casa, carino, figo, figo, non c'è niente però, perché l'etro ci fa così poca luce, mi ha spostato, perché ho perso la mia skin, no, aspettate un secondo, non ci posso credere, in alto, aspettate, dice Minecraft in dev, non, non, non ci credo, no, no, non può essere, cazzo, non può essere, oddio, invece, mi sa che è, mi sa che, quel portale lì, non era un portale per andare in un posto, era per andare nel tempo, ecco cos'era il segreto del, era il segreto del tempo, in poche parole, io, sono tornato indietro di, un sacco di versioni, sono tornato alle prime versioni di Minecraft, cos'è chi è una delle prime versioni, ragazzi, assurdo, non ci posso credere, cioè, sono tornato, in povertà di merda, non, proviamo a vedere se c'è in zona, se no ce l'ho nel culo, seriamente, andiamo a cercare un secondo, eh, ma mi sa che non c'è, qua c'è la, oh lol, dei funghi sulla casa, aia, no, eh, qua mi sono spawnato, non portare manco l'ombra, cacchio, 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 no, se vuoi che si sta facendo note, ah, già, che è l'invento, io si apre con Nia adesso, notate la cosa stupida, allora, guardate l'omino, che ha le mani mongole che ballano, I got power, Abbiamo un lomino che fa la breakdance oggi Va bene Ah oltretutto si può anche muovere Durante si è diventato aperto Meraviglioso Ah il bello delle vecchie versioni Vabbè Iii non me la ricordo mai Un secondo che me la setto Se no Controls inventory Eh Don Allora il tutto posso fare Entra per salvare location E R per ricaricarle No aspetta qua è dei due Allora Proviamo R in un punto E di via nell'altro No Allora Load location R Save location return Non l'ho capita sta cosa Vabbè Mi illumina molto se torce mi dicono Uh laggatina leggera Aia come laggo Non ci posso credere No Non c'erano manco le porte Che merda Non ci posso credere Ragazzi Manco le porte Si possono craftare Assurdo Ma non mi resta che giro Vagare per l'isola In cerca del portale In fondo Non ho molta altra scelta Quanto pare Beh Spero che almeno le cesti Siano craftabili Se no ce l'ho veramente Nel sedere E andiamo avanti Sì vabbè Usiamo il picco di legno Tanto per Distruggere un po' Di alfo Oglie Non so il fatto che Ci sia una luminosità Così veramente Scola Vediamo un po' Su option Settare Regressa No Vabbè Non sarebbe tanto male Quindi Cominciamo a levare C'è che mi procurare C'è quello che è possibile Mi sa che ragazzi Dovrò Oh Sperare che succeda Un qualche mitico Balzo nel tempo Quindi posso andare avanti Delle versioni Cliccato che sarà Quello che farò Oppure spero di trovare Il portale Ma visto che Questo blocco Non esisteva In queste versioni qua Quindi Ho ben pochi Ho ben dubbi Sul fatto Quindi mi sa che Cominciano Sarà una serie Sui viaggi del tempo Altro che puntata breve Qua Mi sa che Dalla in La versione 1.2.5 Full snapshot Il 12 Week 16 Avrei un po' Di tempo Beh Almeno ho già Una serie Con cui iniziare Diciamolo E allora Va bene Faremo partire La serie Il nome sarà Vabbè Il segreto Del tempo Va bene Mi piace Neon Il segreto Del tempo Episodio 1 Indev Meraviglioso Beh Tanto vale Cominciare Come in ogni Minecraft Allora Spero poi Di non perdere Gli oggetti Ogni volta Che mi trasferirò Di sicuro La mappa Cambierà Anche Perché Per quanto Ne so Nell'indev La mappa È veramente Piccola E limitata Cioè tipo Per il resto Quest'isoletta Qua è mia Proprio Per il resto C'è tutta acqua Quindi A me Non piace Tanto nuotare Quindi Per il resto Non fare un gankè La casa è lì Per fortuna Sti cazzo Sti cazzo Di fogli Cado in giù Subito Finalmente Un puntaggio positivo Un voto positivo Allora Secondo me Le ceste Sono craftabili Tanto vale provare Craftami una cesta Sì Le ceste Sono craftabili Sì Sono quelle belle cubose Che non saprano ancora Meraviglia Che belle Quelle ceste Ho lasciato Dentro i fiorellini Non ce l'ho Shift click Allora Fiorellini Di qua Così Non ci sono manco I nomi degli oggetti Va bene Cobles Di qua Wood Di qua Sono un paio Da tre Giusto Per poter andare Carbone Sì Carbone Dammi Carbone Almeno Ho già le torce Non so che si sta Facendo notte Ma adesso Che ci penso Se non abbiamo Le porte Come cazzo Si fa Vabbè E anche questo Lo scopriremo Basta Basta solo Non morire Non che se non Sono in live Esistevano Mostre O meno Oddio Sì Le fai Si togge Fa ben Cagare Ogni volta Che piace Una luce Una laggata Che schifo Ma Illuminano Niente Cioè Dei mettere Una Ogni Mezzo Metro Vabbè Fortuna che il carbone è molto comune E anche bug grafici direi E' bello Andare a minare Da trieste Laggata E certamente Raggiudere Laggata Inicidiale Bello Sto buco Generato Così Proprio Molto Random Ah Mi sono Tutti Cazzo Devo fare Anche Oddio Mi sono Bloccato Qua in mezzo No Koblen Sto Presta Cite Almeno Però Non vedo Un mostro Né niente Per sicurezza Facciamo il metodo Vecchio Si tappa solo Il sopra E non il sotto Adesso Vedete Perché tappo Il sopra E non il sotto La risposta È molto semplice Allora Tappando il sotto Posso Colpire Colpire qua I nemici Senza farmi toccare Tipo Gli scheletri Non potranno mai Sperarmi addosso Ad esempio Perché c'è Il blocco sopra Oltre di tutti I ragni Si vedranno Molto bene Comunque E Essendo più Essendo più larghi Di uno Non passeranno Fammi dovinare Il letto Non c'era ancora Carboni Ne abbiamo ancora 9 Solo Tutto vuole Cominciare a craftarci Le cose Dove Fa molto Poveraccio Sta Sta versione Di minecraft Linde Odio Il texuto Delle fornace Era così A quei tempi Aveva Aveva Il top Di color Tipo stone E invece Del resto Ah beh Sì Se tu metti Una fornace In fondo Di cose Indistinguibili Da un Pavimento Normale Buono Sapersi Questo Adesso Sono una materia Da lavare Sì Da lavare Da lavorare Quindi Oh sì Facciamoci Giusto un piccone Di pietra Cioè Ragazzi Non so Quanti di voi Abbiamo visto Video su youtube Di cui Il protagorista Fa dei viaggi Nel tempo Cioè Parliamo di una cosa Che siamo riusciti A risalire All'inneve Poi in descrizione Mettere dettagli Su come ho fatto Tutte le cose Di avere Tranquilli Però presto Godiamoci la cosa Per questa notte Mi sa che Comunque Per oggi Concludo Beh Dire che Ragazzi Con questa bella notte Senza mostri Sono in peaceful Tranquilo Ok Ero in peaceful Con questa notte In cui esso Appariranno i mostri Direi che Per oggi è tutto Ciao a tutti ragazzi